Se dice Drago, lei è contraria al vincolo di spostamento, di mobilità del docente, perché? Sono contraria sia per quanto riguarda il docente che anche per i dirigenti ad esempio, perché questo non assicura la continuità didattica, non permette al docente di svolgere serenamente il proprio lavoro, in quanto si trova lontano da centinaia di chilometri dalla famiglia di origine, deve sostenere delle spese per gli spostamenti, affitto, alloggio, e quindi diciamo con uno stipendio che conosciamo tutti, che non viene rinnovato da anni. Il concetto di vincolo è errato proprio da un punto di vista intellettuale, anche concettuale, cioè bisogna poter lavorare, svolgere la propria attività senza sentire questo cappio che viene un po' messo proprio a livello governativo. Questo fu deciso nel governo giallo-verde, col vincolo quinquennale, ora ridotto a tre anni e adesso non hanno la possibilità nemmeno di chiedere l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione. Grazie a tutti.